Un segnale importante di un'Europa che deve svegliarsi anche su questo tema, non basta fare proclami contro il terrorismo, bisogna poi assicurarsi che là dove l'Europa può intervenire, e io credo che possa e debba intervenire anche con il governo del Nicaragua, sia assicurata l'effettiva detenzione di personaggi, in questo caso pensate sei argastoli, omicidi e soprattutto rispondere anche all'appello della Commissione Moro che ha detto che è importante che questo personaggio torni in Italia, ovviamente sconti l'intera pena, non ha mai fatto un solo giorno di carcere, perché sa molto ancora del omicidio del Presidente Moro e degli agenti della sua scorta, di tutta questa vicenda rimangono ancora punti oscuri, quindi è necessario, io voglio sottolineare il forte intervento di Matteo Salvini a nome del governo, perché questo personaggio venga riacchiappato sulla base del principio che per questa gente con la lega al governo la pacchia è finita. Io spero di non dovermi aspettare qualche cedimento per motivi ideologici o politici per una questione che riguarda l'onore del Paese, è un'esigenza direi profondamente sentita anche per il doveroso rispetto verso le vittime in generale del terrorismo brigatista, in particolare per queste vittime i poveri poliziotti e i loro familiari, i familiari di Moro e naturalmente anche quelli del magistrato assassinato. Dobbiamo ricordare sempre che c'è gente che ha pagato col sangue il servizio al nostro Paese.